Il capitano della squadra pro seguito dal capitano della squadra contro, dopodiché il primo relatore pro e il primo relatore contro seguiti da due minuti di pausa. Dopo i due minuti di pausa ci sarà il secondo oratore pro e il secondo oratore contro, dopodiché altri due minuti di pausa, il dibattito libero, due minuti di pausa e la conclusione dei capitani. Ogni intervento durerà tre minuti, mentre il dibattito libero durerà otto minuti. Potranno partecipare solo i tre oratori delle due squadre e per non andare incontro a penalizzazioni dovranno parlare almeno due relatori per squadra. Ah sì, scusate. La giuria è composta da Benanchietti Chiara, Delle Canattie e Massa Zamario. Per quanto riguarda i discorsi degli oratori io suonerò una campanella ai due minuti e trenta e un'altra campanella allo scadere dei tre minuti. Buon lavoro e buon lavoro.